La misura con la quale misurate sarà misurato a voi. È questo che ascoltiamo nel Vangelo di oggi, in questo lunedì della seconda settimana del tempo di Quaresima. Usare un'unità di misura per rapportarci con gli altri, per misurare i nostri rapporti e soprattutto per misurare la vita degli altri. Il Signore ci chiede di essere indulgenti e aperti, misericordiosi, quando misuriamo la vita dei nostri fratelli, perché la misura che utilizziamo nei loro confronti sarà la stessa misura utilizzata per noi. Questo ci aiuta, ci fa capire quanto sia importante essere divenute ampie, quanto sia importante avere un cuore dilatato nella misura e nella considerazione degli altri. È tanto, tanto difficile, ma è allo stesso tempo liberante. Quindi in questa giornata la domanda che ci facciamo è questa. Qual è l'unità di misura che utilizzo per gli altri? grazie e buona giornata.